Continuando a mettere e togliere maschere, in maniera un po' oscura e se non altro per sottrazione, per esclusione, riesci a capire qual è la cosa profonda e immutabile che sta sotto tutte le maschere. Non solo quelle che metti per il lavoro, ma anche quelle che metti nella vita. Mi sono trovata improvvisamente quando facevo l'Accademia, mentre leggevo le pagine di un testo teatrale, finalmente a capire qualcosa di me e qualcosa attraverso questo personaggio. Io credo che la forza e la difficoltà di questo mestiere è mantenere sempre quella fascia di consapevolezza, di mistero. di quello che fai, anche per te stesso, di come lo fai. Ma chi sono? Perché improvvisamente mi metto a piangere come una pazza perché gli succede questa cosa? Perché mi metto a ridere come una pazza? Eppure lo faccio, eppure lo sento tantissimo, dopo sto proprio male, oppure dopo sto proprio molto allegra. Ed è una cosa effettivamente che se fai per tanto tempo, ed è una ricerca continua, alla fine un pochino mi spaventa. Perché un attore arriva e un altro no? Uno lo capisci, lo senti, lo vuoi dire e un altro no? Cos'è sta roba qua? Perché? Poi ci parli, magari quella è proprio una merda, e quell'altro invece è una persona meravigliosa, è anche più colto di quella, però quella arriva e quell'altro no? Cos'è sta roba? È difficile stabilire che cosa sia questa cosa. Shakespeare dice, dateci una musa di fuoco per accendere ai cieli sfavillanti della fantasia, come altrimenti noi attori, zeri di questo immenso universo, potremmo raccontarvi le storie dei re. È un dono, come tutti i doni però hanno difesi, che poi il dono spesso è una roba che ti vizia, che ti dà una concezione anche pigra del tuo lavoro, perché c'è una cosa e basi su quella, è lì che scatta forse l'intelligenza, di come utilizzare e rendere questa cosa valida nel tempo. Il dottore è stupido, forse è veramente stupido quello che ha questo dono e lo butta via. Per me il talento comunque c'entra sempre con qualcuno che ti fa volare le animelle, che tu torni via e c'hai qualche cosa che è stato migliorato, oppure un po' crepato perché non ha capito, ma si è un po' eccitato. Il talento fa parte però di qualche cosa che ha a che fare anche con uno scambio spirituale, non so come dirlo. Non solamente, ah quello lì è bravo, molto bravo, bisogna frega. No, questo è uno bravo, bravo, bravissimo e poi a quel punto dici, che talento sprecato. Non critico la scuola di teatro, critico l'idea di scuola che spesso si organizza e si fa, anche perché dico una cosa cattiva, ma spesso capita che chi insegna teatro non lo fa, perché un conto è se io pratico questo mestiere e lo insegno, un conto è se a un certo punto io vivo dell'insegnamento del teatro, ma divento un insegnante di teatro. Una buona scuola è fatta da buoni docenti, cioè non è che una scuola, quindi da persone che ti sanno capire, in realtà sì, cioè alla fine dei tre anni che sono quelli che diciamo più o meno che erano nel corso dell'accademia, riesci a tirare fuori da te e farti capire che cosa, chi sei, che cosa ti è più congeniale, quali sono le cose su cui devi lavorare, le cose su cui devi soffermarti di più o di meno. Io non ho fatto nessuna scuola di teatro, per cui ho capito e ho fatto esperienza sul palcoscenico. Neanche io sono un attore di scuola, insomma sono un attore così, anche io ho cercato la mia espressività, così un po' facendo le cose. È stato il lavoro che mi ha insegnato, di questo qualche volta sono fiero, perché mi pare di appartenere ancora proprio per l'Irami, come si dice, a quello che era un tempo, all'antica italiana. La scuola dà dignità, si è inserito, questo non vuol dire che ti ha formato come attore, però ti ha messo, esci, hai un diploma, sono un attore. Ti dà una dignità nel tuo lavoro, cioè ti dà quella dignità che in realtà nessuno ti dà, poi alla fine. Cioè una buona scuola deve avere, secondo me, questa consapevolezza, che insegna un mestiere e quindi richiedere ai suoi allievi un tipo di impegno, tra virgolette da bottega, non da studenti. Quindi gli insegnanti devono selezionare bene gli allievi in funzione di questo e devono proporsi in una dimensione che non è quella della scuola solo, ma una scuola di mestiere, in questo senso. E questo è difficile. Questo mestiere è bello perché mi piace, non so. Il mio di motivo te l'ho raccontato prima, è il piacere. Questo lavoro è un'esigenza che nasce sicuramente da me, ma non perché solamente per voler essere apprezzata, almeno io non credo. Cioè a me piace proprio recitare, piace per me. L'attore è uno che quando gli danno la possibilità di andare a recitare, l'attore che lo fa per passione, quando gli dicono che gli danno i soldi, lui è contento ma potrebbe anche farlo senza soldi. L'agire attoriale è uno sfogo, un arrivare in maniera più ampia, è più potente, è più liberatoria, ha una espressione di sé. E questo sicuramente comporta molto piacere per quanto mi riguarda. Ed è una forma di libera espressione che non so oggi dove la puoi trovare. Non c'è una censura. Non c'è una censura. Sento che è qualcosa che mi trasporta, no? Sento questa elevazione, cioè questa libertà. Secondo me è bello perché ti dà la sensazione sempre di cercare la libertà. Una frase di Strele, che è un grande maestro, diceva l'attore è fantastico quando tu vedi che si sente libero sulla scena. Eppure abbiamo fortemente lavorato insieme per una partitura stretta, cioè lui è padrone, è libero, è signore di quello che fa. Ha trovato la sua libertà. Io a bellezza del suo lavoro era, la vedevo proprio, comunque vedevo il suo lavoro rapportato ai lavori che io ho fatto. al lavoro, quello che veramente io chiamavo di condo e vado a lavorare. E il lavoro d'attore è un'altra cosa. Non voglio ripetere le parole dei grandi che dicono il gioco, il gioco dei Mastroianni, però è veramente un gioco. I giochi valgono se si fanno veramente sul serio, come fanno peraltro i bambini quando giocano. Litigano, sudano, corrono, come se fosse la finale dei campionati mondiali. Questo fa sì che anche se non giocano in maniera particolarmente tecnicamente, tu puoi seguire, è come un discorso che si hanno una tale necessità e litigano. E corri, io devo la palla, passa! I bambini giocano per necessità. Fanno come se, ma fanno come se credendoci. Io con l'amichetto mio giocavamo a cowboy, sui due braccioli delle poltrone facevamo... Nella mia testa c'erano i totali di Sergio Leone, c'erano delle cose... Chissà nella testa dell'amico mio che c'era e con che spirito, che poi adesso fa un altro mestiere, un geometra, non c'entra niente. Il teatro, poi ne parliamo tanto, il ruolo dell'attore, ma è quello che fanno i bambini. I bambini usano la recitazione, il fa finta, per imparare la vita. E' una forma di apprendimento sublime perché poi, attraverso la finzione, vivi delle realtà virtuali senza pagarne le conseguenze, come succede nella realtà vera. L'attore è uno che decide di non chiudere le porte del bambino, perché sono quelle che te servono. Ci sono due vite, di questo sono sicurissime. E' evidente nel gap che c'è tra la vita reale e la vita di scena, che l'attore rende reale, c'è già una strana disarmonia. Riesco a fare, cioè nella finzione, anche quella molto plausibile, molto realistica del cinema, delle cose che nella realtà non mi sognerei di fare. Io sicuramente ho detto e fatto cose nei film, nelle cose che non avrei mai fatto nella vita e che non faccio, non farei mai. proprio per una specie di opportunità che ti dà la scena o il set di fare ciò che o ti viene o tu stesso ti impedisci di fare nella vita, o ti vergogni o non vuoi, per i motivi più differenti e sbagliati. Nello stesso tempo è difficile dare delle regole generali. Possiamo concludere con questo, che gli attori sono l'estremo di questo, cioè i più indefiniti possibili sul terreno personale della vita reale e gli unici che ci danno delle vere persone, che sono i loro personaggi, quando li fanno bene. Io per fortuna, diciamo, l'esperienza del dolore non mi manca. Io ero veramente un nevrotico quando ero adolescente. Io ho balbettato, io pensavo di non fare l'attore, ho balbettato fino a 18 anni, tantissimo. In qualche modo sono stato sempre vicino all'autismo, non so come dire. È un grande disagio nella vita normale, nel senso che questo disagio mi portava ad essere in un certo modo, ad essere sempre molto alla ricerca di qualcosa che non sapevo cos'era. Voler essere comunque presente, protagonista, dopo che sei stato così tanto assente nella vita. Io di solito penso che sia più, c'è una sorta di travaglio interno, che sta con delle personalità che convivono in maniera dinamica e devono trovare il modo di darsi agli altri, c'è un lavorio interno. Questo disagio di cui si parlava prima. Quando una vita la persona è un po' intrecciata, un po' ha un dolore, fra virgolette, perché poi se parliamo di dolore rischiamo di offendere chi ha i dolori veri. Però un dolore piccolo nell'anima è... Io penso che esca fuori da lo schermo. E anche se non esce fuori come dolore, esce fuori comunque come emozione, esce fuori come profondità, come... Esce. Per me è stata una cura proprio psicologica, una specie di come si usa la psicoterapia, la teatro-psicoterapia. Per me è stata una cosa che ha funzionato, perché io facendo questo mestiere sono molto migliorato e ho avuto un'evoluzione piuttosto importante rispetto a questo. Secondo me io o mi curavo, cioè veramente io penso che molti che fanno questo mestiere qui potevano anche andare a curarsi per dire che facevano uguale. Ma nella mia vita sì, probabilmente sono molto schiacciata da me stessa. E invece quando recito me stessa non c'è più, non sono più schiacciata, è molto semplice. Ma io dico sempre che sono riuscito a trovare un modo di campare con la mia malattia. Che è una cosa per cui mi ritengo molto fortunato. Non c'è, io lo trovo molto terapeutico proprio come mestiere. Ora però spero che non è che sia, come dire, vincolato e chiuso solamente sulla mia terapia. Però mi ha fatto molto bene. Io non ho una grande percezione né di chi sono né di quello che faccio. Però attraverso il mio lavoro, quando lavoro ce l'ho. Sto molto bene. Se ho delle devianze, delle turbe, non sono costretto a nasconderle, ma le posso utilizzare per lavorare. Quindi per fare, che mi dà anche una funzione sociale. C'era una frase che mi ha sempre colpito, che dice Anna Magnani fece l'attrice per un bacio in meno ricevuto nel lettino, nella culla. Se ci mettiamo a spiegarlo, diciamo delle banalità. Però forse c'è qualcosa di tutto questo. Un desiderio di essere amati, accettati, apprezzati. Una persona che decide di farsi guardare o di mettersi al centro dell'attenzione, sopito, rivelato, no, il narcisismo ce l'ha. Io mi definisco un narcisista pentito, nel senso che ho cominciato sicuramente per piacere agli altri e soprattutto forse per piacere a me stesso. Io sono sempre stato un grande cacciatore di consensi, come si potrebbe forse dire. La spinta iniziale è quella, comunicare con gli altri affascinandoli in qualche modo, usare il pubblico come Narciso usava lo specchio. Perché nasce come una scimmia, scimmia, vuole far vedere il culo e vuole far ridere l'articolo, questo è l'attore. Un attore si può fermare al proprio narcisismo, compiacersi di sé e tante volte compiacere anche il pubblico. Perché poi ci sono degli attori che si piacciono perché hanno delle qualità che piacciono anche agli altri. Ma non è questo, per fortuna, lo scopo del narcisismo assoluto. Lo scopo del narcisismo assoluto è quello di farsi vedere, non di piacersi, ma di riuscire a farsi vedere completamente dagli altri. Superato questa prima esperienza dove ti battono le mani e in famiglia dicono, ah fa l'attore. Poi dopo rimane che sei tu da solo questo mestiere e se lo fai solo per l'articolo perché ti dicono che fai l'attore, duri poco. Oppure lo fai, ti consiglio di prenderti anche un altro hobby perché non ti darà soddisfazione come se tu lo fai entrandoci totalmente. A me è capitato di trovarmi in situazioni di estrema sofferenza, di estrema disperazione e sentire una voce dentro di me che diceva ecco vedi quando tu sei disperato fai questo, ti muovi in questo modo, ti dici o parli o emetti suoni di questo genere. Questa è quella deformazione professionale che si applica sia a se stessi che all'esempio degli altri e che è quella che poi in un modo abbastanza crudele però ti interviene quando devi rappresentarle queste cose. È una cosa molto dura ma l'arte, mi permetto di ripetere che la nostra è un'arte, è una cosa molto dura. È rinuncia per quanto mi riguarda tutto il resto della vita, nel senso che poi è veramente per me una motivazione quasi mistica questo lavoro, talmente invade proprio anche la mia percezione del mondo, insomma proprio del mio stare al mondo. Ti chiama ad un impegno e ti rende una vita più faticosa, più difficile, ti crea anche un percorso difficoltoso che è fatto spesso di solitudine, spesso di incomprensione, spesso di guerra, spesso di litigi, di attriti. Un lavoro che pure ti fa mettere in discussione tutto totalmente, ti fa rovinare magari i rapporti con le persone che poi sono il pane anche della vita. È una cosa che può distruggere, può salvare certamente un essere ma o perlomeno può distruggere lui tutto quello che ne farebbe un essere normale, un essere che campa con soddisfazione, con tranquillità se ci riesce. Ecco, diciamo che la soddisfazione e la tranquillità sono un pochino esclusi da chi vive per rappresentare. È difficile che io recitando mi soddisfi perché non raggiungo di rado quello che sento che sarebbe bene fare. Quando mi succede, allora per me, ecco, quello è un momento di, posso chiamarla anche estasi, anche se dura pochissimo, però ammetto certamente che riguarda più me che il pubblico, anche se poi devo riconoscere che in quei casi il pubblico risponde, quindi siamo d'accordo io e il pubblico. Io divento quasi anch'io uno spettatore che mi applaude. Sono momenti di identificazione con se stessi, con la propria arte, io la chiamo arte perché trovo che sia più modesto chiamarla arte, insomma col proprio scopo che, ma sì, si possono anche considerare momenti quasi, quasi mistici se vogliamo, però è una forma mistica dove non me la sentirei di evocare Dio. E' una religione anche questa, però è una religione un po' più autistica. Ma sai, io penso che l'attore debba essere uno strumento, cioè prima parlavamo di comunicazione, di satellite, di zattera che passa da una sponda all'altra per comunicare da una riva all'altra. E con l'attore deve essere questo, satellite, questa zattera, deve essere una cosa che si mette a disposizione, è portatrice del racconto. Perché voglio andare in scena io, ma perché mi sento veramente il tramite tra una pagina scritta e il pubblico. A me piacciono gli attori che si considerano materiale. Ho questa mia disponibilità, insomma, essere un po' una lavagna su cui scrivere. Quindi che non si portano troppo appresso il fatto che sono loro. E allora è lui che fa il cowboy, è lui che fa il fattorino, è lui che fa il gangster. Mi piace l'attore che è un cowboy, è un fattorino, è un gangster. E anche la capacità, la sensibilità di stare dentro, starci dentro, come dicono i giovani, starci dentro, è una frase molto bella, però senza essere troppo ingombrante anche, senza portare le tue neurosi, le tue ansie, poter a tutti i costi vedere che sei bravo, bravo, bravo. Non compiacersi mai della scena drammatico, della scena aggressiva, la scena violenta, o il buono che si compiace di essere buono, o il cattivo che si compiace di essere cattivo. C'è una misura. Ecco che, allora, un attore, secondo me, di valore, è un attore che prima di tutto, prima di sapersi esprimere, sa ascoltare. È il mestiere che è basato su una cosa particolare, che è l'ascolto. L'ascolto degli altri, l'ascolto degli altri attori, qualcosa che c'è dentro. Spesso il mestiere dell'attore è basato sul dire. Io, insomma, ho cercato di impostare tutta la mia carriera sull'ascoltare, sul sentire. Devi partire come da un bisogno, da un'esigenza di uscire fuori da te, di raccontare, di entrare onestamente nel fatto di far succedere qualche cosa e non di imitare. In molti casi io vado a teatro e riconosco un percorso, riconosco, caspita, anche una capacità tecnica, delle cose che io non sono mai capace di sognare di fare, però comunque alla fine rimangono come un catalogo di oggetti che non mi interessano, rimangono lì sul palco e non mi arrivano. La recitazione borghese, la recitazione pulita, l'italiano che non lascia passare nulla, ma diventa semplicemente un… c'è proprio il vetro, c'è il teleschermo, fai tum 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 e suona il vetro. E questo poi diventa anche una forma. Ieri sera guardava Albert Tazzi, nel suo modo di comunicare o di citare, e di citarsi il suo repertorio e di recitare, c'era una modalità teatrale che piace molto al pubblico che va a teatro. L'importante è che tu sia un prototipo, perché anche una cosa piccola, 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 però sia una roba tua e che non ti rifai a nessuno. La sensazione è che l'attore, tendenza metallo italiana, così detto, o piccolo borghese, è quello che si prepara delle piscine in cui nuota abilmente, ma che sono quelle, sono la sua sicurezza, la sua conservazione, quelle che gli dà i soldi. L'attore, come lo intendo io, è qualcuno che va per mare, ma ha nel tempo gli strumenti, l'esperienza per ogni volta ricalibrare, ritrovare. Allora si vive ogni volta, anche se ripete 10, 20, 30 volte lo stesso Chuck o fa 150 repliche di uno spettacolo, ogni volta riparte per mare. Allora, umanamente è un'esperienza alta, senza togliere niente agli altri, ma per me vale la pena così, insomma. Grotowski parlava dell'attore santo perché lui sosteneva che quando l'attore è al centro del personaggio, quindi si dà completamente, in questo processo di innocenza, di sacrificio di sé, di donno di sé, in qualche modo si illuminava. Rimango veramente affascinato dalle persone che riescono appunto a far passare le emozioni personali mentre lavorano, che riescono ad aprirsi talmente da non avere sovrastrutture che bloccano, che li bloccano nel darsi. È per me tanto il piacere di farti un regalo che secondo me è più importante che io coltivi la mia capacità di essere generosa perché sono convinta che se io la coltivo, faccio come il sassetto nello stagno, cioè io voglio credere in questo perché se no non ho, non so cosa devo fare. Lo sciamano ha questa funzione di riequilibrare l'uomo rispetto al tempo e all'esistenza, che poi questo diventi terapeutico o meno, questo dipende poi in che contesto, però in questo senso, verso la comunità, l'attore in qualche modo è portatore di questo essere sciamano. Credere che per esempio tutti insieme in uno spazio come questo si possano fare anche dei balzi di comprensione rispetto alla vita, cioè questo lo credo in questo senso di comunione. Il riso è una forma rituale potente, no? Per me la risata è un momento di comunione, cioè è un momento di insieme, di un forte di insieme, è una sorta di rito. Perché comicità è una cosa altissima per me, cioè di appunto, a parte che appartiene più la nostra vita, perché noi siamo comici molto di più di quello che, poi che i film o le cose lasciano intravedere nelle nostre vite. Noi nella vita siamo molto più divertenti, sempre, anche nelle tragedie, anche quando ci succedono delle cose molto brutte. E questa comicità, volontaria o involontaria, è un veicolo enorme nella vita per le persone, perché attraverso un po' di ironia, un po' di comicità, si arriva veramente molto più velocemente a avere a che fare con un'altra persona, no? Quando ti parte la risata è bello, perché sia che hai capito quello che succede, sia che non l'hai capito, il tuo cervello fa un piccolo, un picco, no? E in questo picco io credo che migliori l'intelligenza e il cuore anche. Un tempo quando ho iniziato a fare teatro, una cosa che mi faceva girare le balle era una frase che si diceva nei giovani attori, cioè il pubblico, sì sì, pensa siete delle merde, siete delle merde, 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 sì sì, che non devono farti paura, attacca, attacca, e ho detto no, io scusa un attimo, sarà che sono di formazione cattolica, non lo sono più, ma siamo qui insieme, passiamo due ore insieme, perché devono essere delle merde, perché io ho paura, ma perché non possiamo pensare a una cosa diversa, che bello ho preparato un dolce, speriamo che sia cotto bene, che gli piaccia, però ho un dolce, vediamo, magari poi gli viene sete, gli do un bicchiere d'acqua, però poi magari ho anche la mazza caffè, il caffè che, è questa la cosa, ho preparato, gli sto invitando a cena. Gli attori sono la persona più buona nel mondo, cioè perlomeno quelli che appunto fanno questo lavoro, con passione, ce lo fanno veramente. La persona buona riesce a capire un po' tutto, perché è disponibile, perché è tollerante, una persona arrogante, presuntuosa, si limita un po' di esperienze. Tutti i bravi attori che considero, bravi attori che ci ho lavorato, che mi hanno dato tanto, appunto mentre ci ho lavorato, poi alla fine sono arrivati tutti pure bravi persone, oltre che bravi attori. Se non ami gli altri, come fai a poi a rifare, a riprodurli con quell'affetto, con quell'amore con cui poi devi riprodurli. Per cui penso, io l'ho sempre pensato, che veramente sono delle persone buonissime, nel fondo, poi magari ci hanno desiderio di essere, appunto, di far vedere, di pensare agli altri che sono persone forti, cattive, che sono persone ciniche, ma io non lo penso. Ma comunque chi se ne frega, cioè se io sono a teatro qua, vedo uno spettacolo che è come leggere un libro, vedere un film, che proprio mi smuove, esco, mi rimane attaccato, lo porto come uno zaino per giorni e dà tutte quelle esperienze. Se poi quello esce, non lo so, perché non lo so, non mi riguarda. Perché quando recita, si purifica. La sua grandezza di artista lo rende anche morale. Quando poi ha smesso di recitare, ritorna a essere una carogna. D'altronde, io, dire che ho conosciuto qualche grande artista che era umanamente non molto, diciamo, rispettabile. Persone che hanno vissuto con un'attenzione grande all'avidità, per esempio, all'accumulo, all'invidia per un ruolo piuttosto che un altro. Eppure dei grandi che lì sopra hanno dato tanto. Per me è perfettamente naturale che ci sia una parte della mente, dell'anima, dello spirito, di un uomo capace di attingere alle bellezze supreme e un'altra parte che invece si rivoltoli nel fango. Perché no? Siamo fatti così per fortuna. Io sono un pezzo di cacca, però finalmente posso essere buono, almeno sulla scena. Addirittura questo. Non posso, non me la sento di essere buono nella vita, perché ho sofferto molto. Odio i miei simili, ma sulla scena finalmente posso... Sono un magnifico San Francesco. Pugnumel diceva che nessuno ci ha chiesto di fare questo mestiere. Per vivere se ne possono fare tanti altri. Quando qualcuno parla a proposito del nostro mestiere, ma io tengo famiglia, ma io devo campare, questo è un errore, già è una partenza sbagliata. Non è un mestiere che si deve fare per sopravvivere. Si può anche scegliere di fare una cosa che non è il massimo del tuo desiderio, che non è il... Però bisogna continuamente rispettare questo mestiere. Va rispettato sempre. Nel momento in cui tu non lo rispetti, non puoi pretendere di essere rispettato. Una volta si diceva che per fare la tour bisognava essere in buona salute. E questo è fondamentale. Oggi bisogna essere anche ricchi di famiglia, perché poter fare delle scelte vuol dire lavorare pochissimo. Sono stato disoccupato parecchio tempo. Io ho avuto un... Ma neanche un periodo, sai, il periodo nero. Ho avuto proprio una tendenza, diciamo, ben spalmata su tutto l'arco della carriera, ad avere difficoltà a trovare lavoro. La cosa brutta, principale, è la precarietà che c'è nel nostro mestiere. Sì, infatti, non puoi programmare nulla, perché comunque sei sempre ad aspettare che ti chiamino. E comunque poi il problema è che io non ho mai smesso di pensare che magari diventerò ricco, anche quello. Cioè ricco nel senso che riuscirò a non avere più la precarietà. Quella è anche la mia speranza. A parte continuo a fare questo lavoro anche per quello, per cercare di non essere più precario. E ogni anno che passa mi dico l'anno prossimo devo lavorare un po' di più, devo lavorare un po' di più, devo lavorare un po' di più. Per quello che riguarda la televisione ci sono una serie di cattivi parametri che dettono i cosiddetti burocrati televisivi. L'attore televisivo deve essere bello, l'attore televisivo deve essere giovane, l'attore televisivo deve essere assomigliato più a un modello che non ha un attore. Non è necessario che sappia recitare, secondo loro. Si vede una tale quantità invece di pessima recitazione, anzi nemmeno di pessima recitazione, ma di non recitazione, che la gente si è in qualche modo mitridatizzata contro questo. E spesso capita che se vede recitare uno dice ma cosa fa quello lì, è matto, recita, cosa fa? Mi dissero, mi raccomando, tu stai basso con la tua recitazione, perché se no vai fuori dalle righe. Io rimasi molto stupito, poi ho riflettuto e ho capito che io dovevo stare basso, altrimenti avrei fatto una figuraccia io, non loro. Perché è il loro modo di recitare che è vincente. Non è che tutti gli attori italiani sono bravissimi, no? Cioè, forse a causa di una consapevolezza o una intuitiva consapevolezza che non è importante quello che fai, ma chi conosci, tanti si lasciano anche rilassare, insomma, non lavorano su se stessi. E' che in televisione lavorano molto i raccomandati e non lavorano quelli bravi. Allora, se i registi accettano di far lavorare i raccomandati e non quelli bravi, peggio per loro, peggio per il pubblico. L'unica cosa vera che c'è è il fare il proprio mestiere in un modo corretto, prepararsi, essere preparati, eccetera, eccetera. Non leccare il culo, non essere raccomandati. Uscire da questo sistema di magnacce e mignotte e mignotti che è diventato il nostro lavoro. Non essere scelti per un ruolo non è un rifiuto personale e questa forse è la cosa più difficile, no? Per un attore a digerire. Di lui si parla come un animale e talvolta come un oggetto a tratti, per cui si può dire tranquillamente ad una donna, magari toccandola, spostandogli la faccia col truccatore, no? Mettila così perché lei ha questa cosa molto brutta qui, si vede che è vecchia se la prendi in questo modo, no? Quando stai dall'altra parte del tavolo e ti rendi conto che veramente l'attore è l'ultima ruota del carro. Per cui in qualche modo aspecchio questo fatto di guardarsi molto dentro fa sì che gli altri li vedano sempre come potenziati personaggi prima che come persone. Beh, le compatisco. Nel senso le capisco, mi sembra di capirle. Certe volte mi dico chi ha successo comunque oltre al talento e qualche volta addirittura al posto del talento ha un talento che è quello del successo che è quello dell'ottenere il successo che non è purtroppo quello del consenso del cacciatore di consenso perché il cacciatore di consenso è punto al successo ma è in un certo senso sapendo di perdere perché si mette a pregare di essere accettato in realtà. Il cacciatore di consenso non è uno che caccia il successo. Caccia semplicemente è a caccia dell'accettazione. Il successo mi spaventa perché da una parte lo intendo come qualcosa che potrebbe obbligarmi ad essere, a diventare quello che non voglio diventare no? Cioè un cattivo metti un determinato uno spietato uno che non guarda in faccia nessuno dall'altra mi spaventa perché il successo mi obbligherebbe ad ammettere che io sono invece quello e non lo voglio ammettere è da una vita che cerco di apparire migliore di quello che sono per ottenere al posto del successo come opera della tua determinazione come risultato di qualcosa che tu hai voluto con tutte le tue forze lottando anche contro tutti gli altri come di solito si fa nella vita ottenere invece ottenerlo perché gli altri te lo danno perché sei troppo buono sei troppo simpatico se no, capito? questa è la scorciatoia che io continuo a credere che esista nella vita è questo il sentiero privilegiato che sto cercando di prendere ma non è una gran cosa diciamo è una espressione di di debolezza è un rinunciare a usare la forza un attore ci vuole pochissimo perché lavora sulla propria carne lavora sul proprio sul proprio essere in questo io trovo molto vigliacco quando ci sono dei registi è troppo facile chiedere a un attore di mettersi a nudo e quando si è messo a nudo colpirlo io sono uno che non non mette sotto e non vuole essere mezzo sotto proprio non esisti io sono metto uno quando si lavora siamo tutti allo stesso pari però non voglio proprio mai sentire una cosa di sopruso perché te manda a fanculo dopo tre secondi sono attori che hanno bisogno di essere in qualche modo capiti amati ci sono attori che hanno bisogno di essere stimolati magari con un po' di energia e da altri invece che devono essere semplicemente portati sul luogo ci sono attori che bisogna che non si accorgano che stanno facendo quello che stanno facendo altrimenti esagerano ci sono attori l'importante è sentire avere la sintonia capire il non rispetto è anche una specie di acquiescenza sì fammi il cliché che hai mi piacciono va bene interessante andiamo è come se tu non rispettassi un cavallo da corsa sali sul cavallo da corsa vai andiamo e invece prendi sul cavallo da corsa sì e il cavallo dici vado qui bruco che cosa è è vero la parola più importante si chiama rispetto ma credo che la parola più importante si chiama rispetto anche nell'amore il rapporto tra un attore e il suo regista è anche un rapporto d'amore è un bel rapporto da vedere insomma è bello vedere quando l'attore si affida si sente tranquillo quando poi invece si arrabbia lo odia c'è un rapporto quasi familiare insomma lo osservo alle volte anche con un po' di ironia diciamo sembra veramente il rapporto del bambino con la mamma però poi come nel caso del bambino con queste cose meravigliose e straordinarie che vengono fuori all'improvviso il regista si squaglia di gratitudine per questa cosa eccezionale fatta da attore anche quello è bellissimo da vedere un regista la prima cosa che vorrebbe fare è fare l'attore io vorrei essere io l'attore di tutte le parti dei miei film e naturalmente cerco di prendere quelli più giusti il regista è una persona che dice Carlo Cecchi dà dei buoni consigli cioè vede cosa stai facendo avendo l'occhio esterno e dice no così no stiamo andando da una parte o dall'altra è registabile quello che riesce a girarti la situazione a decontestualizzarti a ottenere che vede che tu puoi dare certe cose e sa come arrivarci a questo punto ti apre una porta che tu non vedevi bisogna essere bravi pochi ce ne sono più delle volte tu fai un gioco abbastanza anche quello difficile da perpetrare all'infinito di sembrare meno intelligente del regista che ti dirige sforzo di fare perché se no dirigi tu e questo sforzo di sembrare meno intelligente alla fine produce dei risultati pazzeschi che tu alla fine veramente diventi stupido perché ti rendi conto che l'intelligenza diventa un'arma che ti viene contro perché la puoi utilizzare sempre fino a un certo punto allora diventa una sofferenza essere intelligenti perché ti rendi conto che quello che dice quella persona è una stupidaggine però come fai a dirglielo sei il regista a cui hai affidato la tua vita per due mesi o per un anno e quindi l'intelligenza comunque va utilizzata a piccole dosi con moderazione il nostro mestiere l'intendimento era quello di fare una affettuosa sempre ma parodia dell'attore trombone appunto dell'attore che la prima cosa che ti dice che al giovane attore esordiente dice guarda che la cosa più importante è farsi sentire quindi devi timbrare e ti fa tutti questi pipponi sulla dizione sulla tecnica eccetera quello che era la parodia affettuosa ma comunque sempre parodia è diventato veramente un rimpianto di un mestiere che ovviamente si sta evolvendo ma evolvendo si perde perde alcune delle cose che era prima insomma il rimpianto dieci anni fa non c'era adesso c'è il teatro se parlo sempre per me andrebbe fatto in luoghi piccolissimi dove la distanza non sia granché di più perché se no siamo veramente costretti a entrare in una dimensione tecnica d'altro tipo che oggi non si accetta più una volta era normale che in teatro si parlasse in un certo modo oggi con la cinema e la televisione che ci hanno abituato molto male a volte però comunque ci hanno abituato a un modo di parlare colloquiale sentir parlare in un modo teatrale non è più accettabile neanche in teatro il problema della voce è uno dei veri falsi problemi del teatro nel senso vabbè se ci rifacciamo al teatro classico al grande attore ottocentisco vabbè ora si entri in un territorio in cui è difficile entrare ma soprattutto difficile uscire per quanto riguarda tutto l'altro teatro è un problema non di volume non di dizione è un problema solo di di rapporto con quello che stai dicendo dell'importanza del significato di quello che dici se risolvi questo problema la voce arriverà anche al San Carlo se non risolvi questo problema puoi essere anche paparotti ma non arrivo noi dobbiamo fare ogni giorno ogni sera un grande sforzo che è quello di rimetterci nelle condizioni di ricreare quello che abbiamo magari creato tanto tempo fa e poi ogni sera ripreso io mi sdraio completamente nel camerino per terra e mettendomi un auricolare le orecchie con un cd o qualcosa del genere ascolto canti gregoriani ho l'abitudine prima dello spettacolo di dormire dormire anche poco o magari a volte anche di più se non ho dormito abbastanza ma non certo mai più di un'ora quasi sempre molto meno e di farlo poco tempo prima dello spettacolo quando mi sveglio comincia per me una nuova giornata in qualche modo passa attraverso una sorta di coma nel senso che proprio sono lessa mi viene quasi come dire da dormire e anche quello alle volte ho scoperto che è un modo ma non lo faccio apposta mi viene prima mi preoccupavo poi dico madonna mi sono stanco non ce la faccio e invece no funzionava è un modo un po' per cancellare tutte quelle cose sulla lavagna diciamo della nostra giornata e averne una pulita sulla quale rimettere o mettere per la prima volta effettivamente in quel frangente le cose che vado a fare io credo che anche l'atteggiamento che c'è prima di queste grandi scene non sia costruttivo la notevole concentrazione per non arrivare carico di di intenzioni più grosse di quelle che poi in effetti devi in qualche modo usare io cerco di giocare di scherzare di non appesantire l'atmosfera intorno a me dentro di me fino a motore fino a motore se mi metto troppo a pensare troppo a ragionare troppo a cercare di essere l'attore concentrato sicuramente rovino tutto è pure bello da una pizza sul collo a uno che batte il chuck e poi fai la scena che parli di una cosa triste col tuo amico Ricky Memphis almeno 5 minuti prima di entrare mi siedo e mi rassegno non è concentrazione è rassegnazione non posso scappare un'altra volta mi ci sono messo siamo di nuovo qua col cuore che batte con un po' di scagotto vorrei essere da un'altra parte e poi dopo che mi viene il pensiero ma perché non sono da un'altra parte mi viene il secondo pensiero mamma mia che bello che bello mi tocca bene vediamo che succede va bene vediamo vediamo ma quanto può durare un pianto? quanto? il tempo di mettere un sorriso sopra il viso il tempo di capire che non vuoi soffrire ma certo hai bisogno di una forza che non sia una scorza la forza che io voglio è la forza di Staglio più quella di Olio la forza di Totò insieme a Peppino la loro ironia vorrei fosse mia la forza di una risata che non sia soffocata sono persa la forza di una risata che non sia soffocata a parte al galoppo spedita contro il dolore la noia fa un balzo un rugito e se l'ingoia grazie a tutti grazie a tutti